Da ANAS e dall'accordo di programma col governo un intervento tripartito sulle strade della Toscana del Sud e anche della tratto Umbro della E78. 30 milioni di euro per l'adeguamento delle barriere di sicurezza, per il risanamento dei ponti di viadotti della Firenze-Siena viene inserito tra le priorità il collegamento della Siena-Grosseto con la Siena-Betolle, il completamento della E78-Grosseto-Fano nei tratti Aretini e Umbri. A illustrare gli interventi sono stati il presidente di ANAS Gianni Vittori Armani, il presidente della regione toscana Enrico Rossi. Il governatore ha ricordato che entro la fine del 2017 dovrebbero partire i lavori di completamento della Siena-Grosseto, i lotti 4 e 9, sono stati già finanziati. Si attende dal Consiglio Superiore dei lavori pubblici lo sblocco che valgono da soli 250 milioni di euro, cifra il cui stanziamento spetterà al Cipe. Altri 422 milioni verranno dedicati inoltre alla realizzazione dei tratti mancanti della E78 a cominciare dal 2018. Nello specifico, per quanto riguarda la Toscana d'Aresso, da Palazzo del Pero alle ville di Monterchi saranno implementati interventi di manutenzione. Da Olmo sino a Palazzo del Pero verrà costruita una nuova strada 4 corsie, sempre sulla E78, dalle ville di Monterchi, il collegamento fino alla E45 nel tratto Umbro per altri 180 milioni di euro. Ma a questo punto è appeso al nodo di Olmo perché le previsioni economiche sono parametrate al progetto che esiste ormai da qualche anno, quello del nodo di Olmo. Ove dovesse saltare, tra le alternative c'è ancora nel piatto quella di Strabag, lungo la collina di Agassi. I tempi si allungherebbero fatalmente oltre quelle scadenze, bruciando l'ennesima occasione di completare la grande incompiuta nazionale.